A Pescara il reparto di geratria dell'ospedale Spirito Santo è praticamente al collasso. La denuncia arriva dall'Udc con il capogruppo al comune di Pescara Massimiliano Pignoli che annuncia azioni di protesta eclatanti. Siamo stati ricevuti dal direttore sanitario che c'è ovviamente riconfermato quello che diceva lei, cioè il fatto di questo sovraffollamento, però noi abbiamo detto che c'è l'ottavo piano della vuota e che ci sono dei reparti come lo Pulischi e lo Torino che sono semivuoti a cui potrebbero essere sistemati queste persone. Questa mattina l'assessore si è arrecato presso il reparto di geratria, ha riportato delle documentazioni sia cartacea che fotografica abbastanza allarmante, persone messe sul corridoio addirittura con la popola ossigeno per terra che non è a norma, quindi ripeto non escludiamo azioni eclatanti nei prossimi giorni se la situazione non dovesse migliorare radicalmente. L'assessore alla terza età del comune Nicoletta di Nisio, raccogliendo invece le proteste degli utenti, chiede una risoluzione immediata del problema e l'impegno della Regione dell'assessorato alla Sanità. Sicuramente insieme alla Regione, insieme all'assessore Verì, che già aveva aperto un tavolo, insieme all'ASL e insieme ai sindacati, proprio per il dannoso problema della geriatria e anche di altri reparti. E quindi sono qui per rinvitare la dottoressa Verì a riaprire questo tavolo, perché sicuramente insieme, collaborando insieme, possiamo avere una risoluzione. Anche perché la gente, tutti noi, siamo stanchi di avere sempre tagli, tagli, tagli alla sanità. E quindi la richiesta, la maggior richiesta che parlo a nome di tutti, di dire alla Verì, alla dottoressa Verì, magari di incrementare qualche volta la sanità pubblica e i tagli magari li facciamo da un'altra parte.